Il messaggio riguarda l'umano fondamentalmente e tutte quelle che sono le evoluzioni o le involuzioni dell'umano. Il percorso non è solo esclusivamente un percorso figurativo, ma è un percorso che coinvolge la psiche, che coinvolge tutto il portato che fino ad oggi ci è stato consegnato e che dal canto mio e solo dal canto mio mi prendo la briga di rielaborare e di vedere come può declinare e verso dove declina. Il titolo nasce? Il titolo nasce perché è un po' un imperativo, perché è una parola che ha cominciato ad impossessarsi di me negli ultimi giorni in cui stavo preparando questa mostra e perché fondamentalmente, come ripeto nella frase di Antonino Artaud, in tutto questo mutare di forme molto spesso è difficile rimanere dritti e quindi in questa devastazione, in questo continuo metamorfosare, rimanere fermi sul proprio asse può diventare un compito in grado. Grazie.